23esimo appuntamento con Siamo Europa, finestra settimanale, ogni sabato in affari quotidiani sulle opportunità per i giovani, le imprese, i professionisti, gli enti locali, insomma un po' per tutti, per l'associazionismo, per quanto attiene le opportunità appunto dell'Unione Europea, quelle che arrivano dall'Unione Europea, come queste. Oltre 5,2 miliardi di euro di contributi PNRR sul territorio dell'Emilia-Romagna, pari a quasi 1200 euro di investimento per ciascun emiliano romagnolo. L'assessore al bilancio Paolo Calvano sottolinea i dati, un monitoraggio ora sarà possibile. Di questi investimenti 4 su 10 sono localizzati da Piacenza Rimini nei comuni capoluogo, il 10% nelle aree montane interne, un intervento su 4 a una portata a scala provinciale e regionale. Questi dati e tante altre informazioni sui progetti e le risorse relative agli investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Emilia-Romagna, quindi l'emanazione europea del progetto di rilancio che l'Unione Europea ha voluto, sono disponibili su una piattaforma internet dedicata e aggiornata in tempo reale. Questo è l'indirizzo, lo vedete, all'indirizzo del portale della regione, una bussola in grado di orientare sui principali indicatori del PNRR in Emilia-Romagna, dati per singola missione, settore natura del progetto, tipologia del soggetto, pubblico privato, chi amministra l'investimento, comuni, università, SL, autorità portuali, consorzi e altro, fino a scendere nei dettagli di ciascuno degli investimenti provincia per provincia e comune per comune dell'Emilia-Romagna. Una mappa interattiva consente anche di navigare in tutti i 330 comuni dell'Emilia-Romagna, verificando le risorse investiti in ciascuna municipalità. Parola chiave, Hedi. L'Unione Europea sta sviluppando una rete di poli di innovazione digitale, European Digital Innovation Hubs, Hedi appunto, cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento però alle PMI, le piccole e medie imprese e alla pubblica amministrazione attraverso tecnologie digitali avanzate, soprattutto intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, sicurezza informatica e incubazione di start-up. L'Emilia-Romagna ancora una volta è in prima fila, pronta a partire, anche se alcuni passaggi che deve completare il sistema Italia e il governo sono ancora da definire. Nella mappa dei nuovi digital hub, 13 in tutto, di fatto dei partenariati pubblici privati per università, centri ricerche e grandi imprese finanziati con risorse UE e PNRR, spicca R2Digit. Le attività di R2Digit partiranno il primo dicembre con un finanziamento da 4,5 milioni europeo, il Digital Hub Emiliano-Romagnole coordinato da Arterco, la partnership di Lepida, società di informatica degli enti pubblici dell'Emilia-Romagna e di Cineca, il consorzio interno universitario specializzato nel supercalcolo. La data valla e si rafforza ulteriormente, letto l'assessore regionale dell'agenda digitale Paola Salomoni. Ora entriamo nella rete delle strutture che accompagneranno la trasformazione digitale del territorio dell'Unione Europea. Si rafforza insomma la vocazione allo sviluppo e all'innovazione della Via Emilia. In Italia i poli edi sono 13, ma altri 17 centri hanno ottenuto un marchio di eccellenza che dà accesso solo a finanziamenti nazionali. In Emilia-Romagna c'è Birex. Il focus di Birex è sulla formazione, il testing, la sperimentazione, mettendo a disposizione laboratori e strutture sperimentali per proof of concept test di convalida formazione di competenze digitali, fundraising, individuazione di competenze per avere strumenti agevolativi e finanziamenti, ma anche sinergie con imprese già attivi in ambiti affini nello stesso territorio. Il Centro Europe Direct di Modena ha sede nella piazza centrale, in piazza Grande, al piano terra dello storico palazzo comunale, ribattezzato lo Spazio Galleria Europa ed è il punto di riferimento privilegiato per ottenere tutte le informazioni sulle politiche europee e sulle opportunità che le politiche europee offrono. Appuntamento a sabato prossimo.